Lo sai come si dice direttore d'orchestra in francese? Direttore immagino capo d'orchestra Chef d'orchestra Che si cucina oggi Sguardi e assaggi sono il 90% delle situazioni del servizio Del momento in cui facciamo il concerto Come per noi gesti e sguardi è lo stesso modo La ricetta è un po' come la partitura se ci pensi Alla fine una partitura è scritta Le note sono quelle, non cambiano Però ogni musicista dell'orchestra potrà avere una sua diversa interpretazione Di quella musica che trova scritta E allora sta al direttore trovare invece Quella che è l'interpretazione comune Insomma